Valuto i vostri disegni parte 10 Iniziamo con il primo disegno, davvero molto bello So che è fatto apposta a non fare le ombre, però io li avrei fatti in questo modo, in stile tratteggiato Mi piace tantissimo l'effetto digitale alla spada Però mi raccomando, devi fare la luce riflessa della spada Sulla mano, sul volto, sui capelli Comunque, voto 8 Questo disegno è bellissimo, davvero ben fatto Forse avrei fatto altri capelli con la luce riflessa, tipo questi Su tutta la zona frontale Ma sono piccoli dettagli Voto 9 e mezzo, complimenti E questo chi è? Bud Spencer? Non so, presumo sia lui, si somiglia Comunque, manca di ombre, fatte bene Mi raccomando, devi dare più profondità alle ombre, anche alla barba E niente, sei più sicuro nel tratto Del resto, voto 5 Da Bud Spencer passiamo a Goku È carino, ma non so, ha qualcosa di strano nell'espressione del viso Poi del resto, mi raccomando, hai fatto poche ombre Io avrei fatto più ombre qui, sulla pelle di Goku Ai muscoli, per dare più contrasto al personaggio Ai ciuffi Del resto, molto carino, bella la colorazione Voto 7 e mezzo